L'ultima novità di mercato riguarda il comparto Juniores, in particolare la batteria dei portieri. Questa mattina infatti il Casarano ha ufficializzato l'ingaggio di Luciano Pitarresi, giovane estremo difensore, è un classe 2001, che tra i senior però ha maturato già un'importante esperienza nella passata stagione con la Cireale. A proposito di mercato, resta da seguire l'asse che da Cerignola porta a Casarano, l'anello di congiunzione tra le due realtà si chiama naturalmente e Vincenzo Feula, ex allenatore degli Ofantini ed oggi seduto sulla panchina del Capozza. Dopo Raider Rodriguez, attaccante top per la categoria ed Alessandro Longhi, difensore con esperienze anche nella massima serie, non è detto che non ci siano altri movimenti sulla stessa careggiata. Non è da escludere nulla, come ho detto prima siamo vigili su tutto quello che c'è in questo momento attorno, però le scelte devono essere ponderate, devono essere fatte con consapevolezza. Naturalmente se tu vai su giocatori che l'allenatore ha avuto probabilmente hai meno da lavorare per cercare di metterli in un nuovo contesto, però non ci scostiamo anche da quello che possono essere anche altri inserimenti provenienti da altre squadre. Capitolo Biassone e Cerrone, due calciatori accostati durante questo mercato al Casarano che però alla fine hanno firmato rispettivamente con team Altamura e Brindisi. Non disconoscendo il valore dei giocatori naturalmente, due giocatori molto importanti per la categoria, però non facevano parte del nostro progetto tecnico. Il Casarano vuole viaggiare ad alta quota, ma il ventaglio delle pretendenti al trono è stato ampliato dalle recenti operazioni di mercato delle altre squadre. Alla fine questo è un girone dove le squadre importanti le fanno tutte e dove tutti cercano di far bene, quindi non si può dare una valutazione effettiva di quale possono essere le squadre che ambiscono a fare bene. tutte vogliono far bene, quindi in questo momento non si può dire chi più chi meno. Come avete detto voi, ci sono squadre che magari hanno fatto qualcosina prima, altre che stanno facendo adesso, però si muovono tutti in maniera importante, quindi bisognerà aspettare credo l'inizio del campionato per capire un attimino quali saranno i veri valori di questo campionato.